Zuppetta di baccalà con verdure light La zuppetta di baccalà con verdure light è un piatto leggero e saporito, un mix di sapori del mare e della terra che conquisterà tutti i vostri ospiti. Ideale per una cena invernale light, ma al tempo stesso nutriente ed energetica, si prepara con pochi ingredienti e in poco tempo. Gli ingredienti principali sono il baccalà, che può essere sia fresco che conservato, le patate, le carote, le cipolle, i pomodori e prezzemolo. Un mix di sapori ricco e irresistibile, che può essere personalizzato a seconda delle vostre preferenze e del gusto che volete conferire alla vostra zuppa. Ingredienti 500 g di baccalà 2 patate 2 carote 2 cipolle 400 g di pomodori pelati Prezzemolo QB Olio extravergine di oliva QB Sale QB Preparazione Iniziate preparando il baccalà Se usate la versione fresca, eliminate le spine e sfilettatelo. Se usate il baccalà conservato, lasciatelo in ammollo in acqua per almeno 12 ore, cambiando l'acqua almeno due volte. Sbucciate le patate, le carote e le cipolle, poi tagliatele a dadini. Fate rosolare le verdure in una casseruola con un filo di olio extravergine di oliva. Aggiungete i pomodori pelati e lasciate cuocere per una decina di minuti, mescolando di tanto in tanto. Aggiungete il baccalà e lasciate cuocere per 5 minuti, poi salate a piacere e aggiungete un po' di prezzemolo tritato. Lasciate cuocere a fuoco moderato per circa 20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Se necessario, aggiungete un po' di acqua calda. Servite la zuppetta di baccalà con verdure light ben calda.